Ciao a tutti, vediamo in questo video le 5 chiavi dell'arte della seduzione Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande E veniamo al tema, allora quali sono le 5 chiavi dell'arte della seduzione ma anche dell'arte della persuasione Che spingono diciamo a far sì che alcuni seduttori diventino poi veri e propri seduttori naturali Sembra strano ma il primo, la prima chiave fondamentale per la seduzione è la motivazione L'intenzione, dobbiamo veramente renderci conto di questo Che se abbiamo una motivazione molto forte, se abbiamo un'intenzione molto forte Per legge di attrazione andiamo ad attrarre, diciamo, andiamo a mettere in atto naturalmente Quello che vogliamo raggiungere, dobbiamo focalizzarci sulla realtà veramente E focalizzarci su quello che vogliamo Ma dobbiamo sapere esattamente quello che vogliamo Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, diceva Seneca E io dico tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare Se noi abbiamo un'intenzione, abbiamo una motivazione, sappiamo esattamente cosa vogliamo Attiviamo naturalmente quel processo naturale, istintivo di seduzione Che ci permette di capire in maniera automatica l'altra persona Cioè automaticamente se sappiamo che cosa vogliamo Sapremo leggere le microespressioni, sappiamo leggere il linguaggio non verbale Perché sono qualcosa che è già presente dentro di noi E migliorerà di molto il nostro potere seduttivo Però quando noi parliamo di intenzione parliamo proprio del desiderio profondo Di ottenere qualche cosa, non di avere un attaccamento su una persona Quindi questo è un punto fondamentale per ottenere dei risultati come seduttori Il punto numero due, la caratteristica numero due fondamentale nella seduzione Che è la caratteristica che hanno i seduttori naturali E devi darti valore Sembra anche un qualcosa di scontato, sembra anche un qualcosa di ovvio Ma se tu non ti dai valore, figure di se ne daranno gli altri Dobbiamo imparare ad avere fiducia in noi stessi Ad avere autostima per noi stessi A darci valore Ed è davvero importante perché tutto passa attraverso la nostra mente Tutto passa attraverso la vera fiducia che abbiamo in noi stessi Per cui se noi non abbiamo fiducia in noi stessi Se noi non ci diamo peso, non ci diamo valore Non riusciremo a ottenere assolutamente nulla Dobbiamo imparare quindi questa possibilità Il terzo valore, il terzo punto fondamentale è Renderci conto che possiamo gestire la comunicazione Siamo noi a gestire la comunicazione Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non dobbiamo agire soltanto per reazione agli stimoli che danno gli altri Ma dobbiamo imparare a dare degli stimoli comunicativi Qualunque sia il nostro interlocutore Qualunque sia la circostanza Se noi mandiamo degli stimoli comunicativi Otterremo dei risultati E questo è un altro qualcosa di importante Noi dobbiamo imparare a renderci conto che Dobbiamo controllare i nostri comportamenti automatici, inconsci Perché spesso agiamo, diciamo, automaticamente, inconsciamente Ora, se il comportamento naturale, inconscio funziona, va bene Però se non funziona dobbiamo imparare a controllare il processo di comunicazione Quindi imparare dei nostri errori Se qualcosa che facciamo non funziona Dobbiamo avere la forza di cambiarlo Non dobbiamo Dobbiamo essere degli sperimentatori Quindi nella seduzione bisogna porsi con l'ottica dello sperimentatore Se ti poni con l'ottica dello sperimentatore Potrai ottenere dei risultati Altrimenti non otterrai nessun risultato positivo Gli altri non sanno ciò che sei Ma sanno ciò che comunichi Quindi impara a gestire la tua comunicazione Quindi è importante gestire le sue emozioni Le tue emozioni Rilassarti E comunicare in modo consapevole Osservando la risposta che ti dà l'altra persona Per ottenere tutto questo è molto importante il quarto punto Cioè essere flessibili Un seduttore è flessibile, non è rigido Un seduttore o una seduttrice sa cambiare schemi mentali Sa cambiare atteggiamento Non è focalizzato né sulle persone E non è neanche focalizzato su schemi comportamentali Diciamo acquisiti Bisogna diventare flessibili Ovviamente la flessibilità è qualcosa che si può imparare Magari non si impara da un momento all'altro Però è importante impararla E dobbiamo ricordarci che ogni singola persona Si è costruita dei modelli comportamentali Sulla base delle proprie esperienze Sulla base dell'imprinting E quei modelli comportamentali in quel momento lì erano validi Erano utili Però con l'evoluzione i modelli comportamentali possono sicuramente Anzi sicuramente non saranno più utili Anzi potranno diventare dannosi Se noi ci portiamo ancora dietro schemi comportamentali Quando avevamo 10 anni, 12 anni, 13 anni Per dire Per un bambino di 2 anni ad esempio può essere utile Avere paura a non uscire fuori di casa da solo Perché correrebbe dei rischi Ma se la stessa paura se la porta dietro un uomo di 40 anni Magari ce la portiamo dietro in modo inconsapevole Allora non riusciremo a risolvere nessun problema Quindi dobbiamo imparare questo E prendere e tenere presente Che spesso noi agiamo sulla base di schemi comportamentali che abbiamo Ad esempio potremmo dire Qualcuno potrebbe dire di non volere una relazione seria Ma questo diciamo è una maschera Un meccanismo di difesa Perché ha paura magari di avere una relazione Di legarsi a qualcuno È una sua insicurezza, una sua paura Che fa diventare una sua decisione Ecco quindi è importante capire diciamo Quali sono questi schemi comportamentali Che ancora agiscono dentro di noi Per poterli cambiare Perché dobbiamo essere flessibili La flessibilità è fondamentale E il quinto punto è che la seduzione Significa entrare in sintonia emotiva con l'altra persona Quindi noi dobbiamo renderci conto Di quelle che sono Le esigenze emozionali dell'altra persona E dobbiamo allearci Con le esigenze emotive dell'altra persona Perché se noi ci alleiamo Non possiamo scontrarci contro Le emozioni che vive un'altra persona Ma dobbiamo imparare ad allearci Questo è un punto fondamentale Perché se noi impariamo ad allearci Con le esigenze emotive delle altre persone Possiamo ottenere diciamo Modalità di seduzione Veramente Veramente forti E quali sono queste esigenze emotive Delle persone? Beh possiamo accennare ad esempio Il bambino e il genitore Dimostrano il fatto che talvolta Si può ricorrere alla pura imposizione Quando diciamo abbiamo acquisito un potenziale Quindi interpretiamo il ruolo del genitore E talvolta invece dobbiamo come dire Agire più in modo subdolo Più in modo diciamo impercettibile In modo scuro Cioè la persuasione e la seduzione Deve avvenire in maniera impercettibile Utilizzando meccanismi Diciamo Altrui I meccanismi nascosti delle altre persone Quindi esistono due tipologie di seduzione La seduzione attiva In cui io attivamente Agisco sulla persona Perché ho potenziale E poi ci sono persone che hanno bisogno di qualcuno Che sia direttivo Allora è importante capirlo Oppure agisco in modo più covert Più nascosto Andando diciamo Però la cosa fondamentale Devo capire Diciamo Devo conoscere L'oggetto di desiderio Che devo sedurre Se capiamo Infatti come questa persona Si innamora Come questi sono i meccanismi mentali Che governano questa persona Possiamo Diciamo Creare subito Un'empatia emozionale E far leva Anche sulle sue resistenze E sulle E sulle sue emozioni Nel modo più rapido E Più facile Questo Viene utilizzato nella seduzione Ma viene utilizzato anche nel marketing Un esempio Una campagna pubblicitaria Potrebbe anche esortare A comprare Un prodotto Ma prima Lo associa Delle Sensazioni di Piacere Lo associa Delle emozioni Altrimenti Altrimenti la persona Non Non acquisterà Non farà nulla Diciamo Ecco Quindi questo È fondamentale Quindi studiare la persona Capire che persona È davanti E poi capire Se devi interagire In modo più diretto Ma inizialmente Diciamo Sicuramente Devi Capire Che Quali sono Diciamo Le emozioni Cos'è che governa La persona Le domande che devi farti Sono In che prospettiva Questa persona Vede il mondo Quali sono i suoi canali Comunicativi Preferenziali Visivo Auditivo Cienestesico Quali sono i suoi valori Che cosa è importante Per questa persona Che cosa ama E in che cultura È cresciuta Perché anche L'ambiente culturale È fondamentale Perché La cultura Diciamo Può generare Dei blocchi Logico-razionali Mica da poco Quali sono le emozioni Che governano La sua vita Quali sono le emozioni Predominanti Quali sono i suoi interessi Quali sono le sue passioni Quali sono Le sue Le sue paure Ecco Conoscere le paure È un'altra cosa Fondamentale Perché la paura È fortemente Ipnotica Quali sono i suoi schemi Comportamentali Quali sono i suoi schemi Ripetitivi Quali sono i suoi bisogni Quali sono le motivazioni Diciamo Che lo spingono Ad agire Quali sono le sue fantasie Le sue fantasie Anche erotiche Ecco Conoscere tutte queste cose Cercare di conoscere Tutte queste cose È veramente Il punto di partenza Per poter sedurre Per far questo Devi Distaccarti Da aspettative Da pregiudizi Da proiezioni E osservare Diventare un osservatore Non fidarti Di quello che le persone Dicono Ma fidati Dei comportamenti Delle azioni Delle espressioni Della comunicazione Non verbale Fidati Di quello che le persone Fanno Non di quello che le persone Dicono Fondamentalmente Presta attenzione Anche alle cose Più nascoste A quello che Si annida Diciamo Tra Tra i messaggi Che comunica In modo Subdolo In modo nascosto E presta anche attenzione Alle contraddizioni Che una persona Insomma Devi fare Il bravo seduttore Un bravo È una persona Che sa Veramente Conoscere E comprendere Ecco Queste sono Le cinque chiavi Strategiche Per la seduzione Bene Per questo video è tutto Ti do appuntamento Al prossimo Iscriviti al canale Attivando la campanella Così potrai ricevere Le notifiche Dei nuovi video Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco E ti ricordo Che sul canale Ti puoi abbonare Abbonando Ti potrai ricevere Delle risposte Precise e mirate Alle tue domande Ciao a tutti